Io ho conosciuto l'impresario di Pompeia, vi dico di questo, non parla, non dice una parola in italiano, disse parla solo in inglese, è un impresario, si chiama Raimondo Battaglia, disse se il Presidente vado così, permettete, Raimondo Battaglia, top manager number one di tutto lo star system, dello show business, io sono nato a Pompeia, io sono buono in Pompeia, chiam fra nothing, io vengo da nulla, sono un safe made man che è diventato un big man e per questo chiamano solo me, le più grandi vedette, le più grandi star fanno parte del mio team, io sono il promoter di Sandy Kloffo, Begitto, Neil, Julia Roberts, Mary Lynch, ma lo scopo lo feci quando nel mio staff entrò questa teenager, Sandy Ryan, una top girl che conobbe a Miami in un pub, il little pub, un self service dove nel break di un meeting che si svolgeva all'hotel executive, mentre giocavo a videogame aggiornando un toast e più un flash, ed essendo talent scout la scritturae per una candy camera da realizzare per un talk show, Sandy era freelancer, ed essendo anche single faceva la BBC, part time, da uno speaker della BBC, il suo look casual mi sembrò subito, ok, this year Jitsky Way, Reebok, workman per il footing, più l'opzione della dello sboccio made in Italy, i suoi hobbies erano il winzer per un skateboard con il quale entrò nel Guinness come record boomer vincendo la board cap, ma in un match di pizzi volley, uno shock da viso e knock out, cade in trance, la portai all'hospital per un check up, ed appoggiando anche l'off show diviene off limits, fu così che durante un weekend sul mio Dior, gravitai un cast per una fiction che è di una grande audience, raggiungendo il 45 di share, ed andando via un escalation, che è la consacrata over the top, oggi grazie anche a Sandy che fa trend, o ha richiesto la task force del mio management, e sono diventato il leader di tutto l'establishment dello show business, ho due Reroyce, tre Cadillac e una Range Rover, Station Bagon e Leasing, uso solo Kleenex e fresh and clean, viaggio in top class e ho comprato una beauty center per fare fitness, no smoking, no drink, ma solo pocket lifting per mantenermi evergreen, do you understand? Scusate me, a county man never forget this mother, oh, s'ha fatto non c'è a scorda, mamma, yeah! It's California, it's cold and is now, that's why the lady, that's why you're the lady, that's why the lady is the hand. Grazie.